ciao ragazzi ciao ragazze oggi parliamo di rossetti primavera estate ciao ragazzi ciao ragazze allora oggi parleremo di 5 rossetti preferiti per la stagione primavera estate questo è un video in collaborazione con il canale crazy makeup la mia amica ingrid abbiamo scelto abbiamo deciso di scegliere cinque rossetti molto difficile la scelta ragazze cinque rossetti a mio avviso sono pochissimi però ne ho scelti cinque e ne ho scelti uno per ogni tonalità di colore e vi faccio subito vedere quello che sto indossando adesso che per me è bellissimo è il corallo più bello che io abbia mai visto ed è quello di mulac si chiama hippie coral questo qua fa parte della collezione brave collection dell'anno scorso guardate è un bellissimo rosa corallo non fa l'effetto ingiallimento dei denti mi piace tantissimo e lo strato oro e l'unico corallo che adoro anche se ho preso quello di fenty beauty è più fluo invece questo è più tenue e lo adoro veramente tantissimo è secondo me dovrebbe metterlo mulac in gamma permanente anzi sindina se mi senti metti in gamma permanente perché ha un colore spettacolare e questo è il primo rossetto che vi faccio vedere come il mio rossetto preferito per questa stagione allora ho fatto anche già degli swatch sulla mano questo è il colore di mulac come secondo rossetto fa sempre parte della collezione del collection l'anno scorso la collezione break collection mi è piaciuta veramente tantissimo soprattutto i rossetti mi sono piaciuti tantissimo e questo è stay wild è un rosa fucsia non tanto acceso da un leggero sottotono un po caldo e un po freddo non è né troppo caldo né troppo freddo ed è questo il colore molto molto bello devo dire è tenue come il corallo quindi è bellissimo con la bronzatura sta veramente bene anche sulla mia carnagione pallidina quasi mozzarellina poi ho scelto un altro colore questo è un po più forte questo è il stunna lip paint di fenty beauty è l'ultimo colore uscito uno degli ultimi colori usciti si chiama un look at allò che da una cosa del genere è questo fucsia qui e mi piace tantissimo è bellissimo è proprio strong come si affluo quindi se vogliamo apparire e stare più leggere con gli occhi questo è perfetto ed è veramente bellissimo e scriventissimo ma questi rossetti durano un casino poi come rosso ovviamente non poteva mancare una maybelline super stay matt ink questa è la colorazione 20 e pioneer e questo colore qui che in realtà è un rosso con dentro del blu con un sottotono freddo ma era ma anche dentro del tipo fragola non è proprio rosso 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 tipo ruby per dire questo dentro come una punta di fragola vedete ce lo potete percepire anche nello swatch sulla mano e mi piace tantissimo per fare una sera per serata eccetera 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 questo è perfetto poi sapete che queste tinte di maybelline non vengono via neanche con la carta vetrata quindi siamo sul sicuro se dobbiamo uscire mangiare un gelato piuttosto che qualsiasi cosa questo è il top veramente c'è andiamo proprio sul sicuro poi ho voluto scegliere ero molto indecisa tra un paio di colori ma ho scelto di tenere un nude rosato come colore perché ho scelto un corallo ho scelto due un rosa fucsia un po più tenue poi ne ho scelto uno un po più strong ho scelto rosso e ho deciso di stare su un nude rosato e sono andato a prendere lui sempre uno stay matte ink di maybelline questo è lover la colorazione numero 15 il colore andato più a ruba di tutti delle super stay matte ink praticamente che è questo colore qui è un rosa malva ma sta benissimo anche d'estate un passepartout praticamente un color labbra almeno sulle mie labbra risulta proprio un color labbra non è che butta fuori troppo il malva o cose proprio ed è stupendo e questo è un passepartout proprio naturale se non vogliamo tanto apparire ma vogliamo andare a fare la spesa e vogliamo metterci un rossettino questo qua è l'ideale proprio sta bene con qualsiasi tipo di makeup ragazze questi sono i miei cinque rossetti gli ho scelti tutti i liquidi fra le altre cose perché da quando sono usciti i rossetti liquidi non sono più in grado di utilizzare rossetti in stick per quanto ne ho di belli per quanto ne ho di mac e di clio e di un sacco di altri brand non riesco più utilizzare un rossetto normale cioè uso solo ed esclusivamente i rossetti liquidi non so perché comunque cosa volevo dire volevo dire un'altra cosa ma già scordato mannaccio e niente ragazze spero che questo video vi sia piaciuto ricordatevi di passare da ingrid mi raccomando iscrivetevi al mio canale subscribe venite a trovarmi su instagram e sulla mia pagina facebook condividete questo video sui vostri social mi raccomando vi aspetto numerose iscrivetevi e lasciatemi tanti like un bacione ciao ragazze